Venite ragazzi Oggi me l'avevamo detto che ... Intanto c'è una cosa di gratinito ... ... ... ... ... Se portiamo ... ... ... ... ... ... 42 minuti 32 ricordi Ho faccio In KO è meglio Ah dai portiamo c'è rosa E' rosa per chi? C'è una metà rosa E' buono Non abbiamo tanti broler Però sai ragazzi ieri vi ho fatto vedere Che avevo quasi il passo finito Dopo sta partita ve lo faccio vedere Perché Forse scioppa Si perché forse non mi lasciano i miei genitori Forse scioppiamo forse Forse se mi lasciano Un po' di immagini che ti lasciano Ci prendiamo ascio ninja raga E poi ascio normale che è bellissimo E poi quelle belle ricompense succulenti Fa me la classe Ok attenzione Attenzione mi hanno ucciso raga Non importa però C'è due contro uno Mi sembra difficile Ma che dici Squick e lì Stringendo a secondi forse Non lo so perché ci ho letto Pure lei Che fortissima Ma è infatti Non importa la faccia Abbiamo un'altra possibilità Metto una bella reazione di Lu Magari ci avevamo con le epiche di Lu Eh chi si è scioppato il posto E ce li ha tutte di Lu Eh Io me lo l'ho scioppato Raga lui ha perso un sacco di account Io li ho recuperati Perché lui non sapeva il Supercell ID Raga è vero che il Supercell ID si è recuperato O comunque abbiamo vinto in questa battaglia Io vorrei un sacco colvo Leon Io ce l'ho Eh sì Oh mio Dio Ah ma giochiamo sul mio account Che lui ce l'ha il mio account No Ma giochiamo su quello L'ho eliminato No Tu non l'hai eliminato il tuo Perché c'è il mio bro 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 Oh mio Dio Poca vita 2 No No Lo sapevo io Eh Da quanto 2 Mi piace Abbiamo perso La nostra battaglia Meno 3 E' buo Andiamo sull'altro account Andiamo sull'altro Ok Sono giù 007 Eccolo Ragazzi stiamo andando su questo account Perché c'è il mio bro L'hai preferito colvo E' buono di giocarci Perché da tanto E' quasi di tutto Il suo bro Preferito colvo Io l'ho trovato Quello è lì accanto L'ho prestato Per fare video Allora Ci facciamo sta Sta missione di Jesse Oh C'è una cosa gratuita E' una cassa brawler Attenzione Ragazzi Io ci credo Questa cassa brawler Sento profumo I brawler Invece no Invece no Profumo Di niente Allora Ah Pure qua Ma non hai I gettoni stellari 320 Io Allora Prendiamo tutte Lui me l'ha portata Al grado 21 Corvo Vedete Grado 21 Allora Ci facciamo quella missione Di Jesse Poi facciamo un po' Di partite Con quello Sì C'è un paio di bro Da migliorare Infatti Però non li migliorano Perché Se no troviamo Gadget Tutta cosa qua Lo potrei migliorare Perché Però Ha 30 manete Che schifo Sì E' vero Gli youtuber I veri C'hanno Cose varie Più belle Buone Noi Ne siamo pure Veri youtuber Raga Se mettete Mi piace Mi metteremo 10.000 Alla volta Voi Allora Oh Che mappa Ragazzi Io E' buona Per Jesse Sto Penso di sì Allora Dai Sono con un Dara Mike Squadra Io mi chiamo Giu 0007 C'è un altro Accanto Che si chiama Leon E' Fortissimo Crono Nella Ringa No Oppure E' Fortunato Ieri Ero addormentato Vi racconto La storia Ieri Ero addormentato E vado Ero addormentato Spreco Quello Per la soglia 30 gemme Avevo 33 gemme E mo Ho sprecato Per la soglia Ma nella cassa Normale Che ho preso Per 16 Gettoni Che se 25 di vita Non ci credo Mi ha ucciso Una di 25 di vita Vai Dara Mike Vai Dara Mike No Non ci credo Mi sa che abbiamo Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Terzi Vizzica Io vorrei fare Una partaglia In football C'è la mia modalità Preferita Tutta la vita Football Cioè Perché io Adoro il calcio E Contro Moltis È bravo Qua Signore Oh Non si muove Moltis Che fortuna Oh Dio Oh Dio Vai Fa Fa Oh Dio Crove Andoleon I nostri Bologni preferiti Penso Il mio Bologni preferito È Crove E Scrivete In commenti Qual è il vostro Bologni preferito Commentate Là sotto Oh No Attenzione Voglio Entrare La porta Non ce la faccio Oh Corve Leon Abbiamo Ando Signore L'ultima partita Mettiamo Gioco Ancora Penso Che ci apriamo Una cassa Giù Dice Ma un brollo No Sì Abbiamo Dice Che ci apriamo Qualche cassa Sì Uh Spacchiamo Forse Ma tu Mi hai preso La mia cassa La soia Non so dove Sono arrivata Qua Ma lo so Era la Quarantia e cinquesima Soia Non sto più Giocando in questo account Stai giocando sull'em Eh Mamma mia Che fortunato Quell'account Infatti raga È stato il mio Primo Il mio Secondo account Fortunato Prima Brawl Prima 007 Poi Brawl Post Anzi Il terzo Raga Non so Usare questo Frank Bravo Adorretta Amazzo Oppure Abbiamo Un'accorsa Di Giuseppe Che abbiamo Frank Che è Max 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 Al grado 16 Eppure Frank Al grado 18 Sì De Budi Budi Budino E quindi Quindi Uh Qualcate Getticolte Fa cacare No Volevo dire Raga Volevo Volevo dire Che è forte Un po' Di caccia 2000 Di vita Attenzione Posso fare Gol Posso fare Gol Mina Giuseppe 007 Signore Ok Mi sa Che abbiamo Una cassa Aspetta Vediamo Una mega Attenzione Attenzione Una mega cassa Che ci può Far trovare Cinque Schif Niente Giù Mi sa Niente Niente Giù Il power Piccolo Mina Abbiamo fatto Tutta Questa Cosa Per niente No Che possiamo Migliorare Non giocare con corpo Perché Perché No Povero Raga Vi salutiamo Vi salutiamo Ciao Ciao Ci vediamo A presto Ciao 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 Ciao